È un singolo decisamente molto tropicale, ci porta in Brasile, nella favela brasiliana e ci fa fare un giro in questi posti magici che ti fanno sentire che l'estate sta arrivando. Poi racconto di questa favela brasiliana, di questa principessa, di questa favela. Dà delle vibe estive, insomma, energia. Ci siamo trovati molto nelle sonorità, nella musica e quindi abbiamo molte idee in comune. Bravissimo a cantare. È stato molto divertente, una ragazza molto solare, sempre allegra, si mette in buon umore. Mi ha fatto piacere. Non vedo l'ora di performare. Anche tutte le tracce vecchie e tanti ospiti. È come quando un giocatore si allena per tutto l'anno e poi va a fare la partita importante. Quindi diciamo che adesso iniziamo le partite importanti.